questo ti piacerà che c'è mario uno degli scienziati di di ravello potrebbe disertare vediamoci all'antuina si segnalano scontri nella zona a tutte le unità convergete nessun problema sono un maestro della discrezione spazio abbiamo inviato altri rinforzi nella zona servono rinforzi servono rinforzi qui base a breve giungeranno altri rinforzi stiamo inviando supporto di terra alla vostra posizione rinforzi di terra in arrivo alla vostra posizione dispaccio carri armati in arrivo si facciamolo si facciamolo si facciamolo si facciamolo si facciamolo si facciamolo inviamo immediatamente altre forze di terra alla vostra posizione avvio del protocollo di ricerca trovatelo il prima possibile truppe di rinforzo in arrivo rispaccio il bersaglio è ancora in libertà trovatelo ricevuto rinforzi in arrivo rinforzi in arrivo la mia volontà la mia volontà brucerà la vostra la mia volontà la mia volontà la mia volontà è stata 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 a tutte le unità allerta ristabilire il contatto visivo bersaglio in libertà ristabilire il contatto visivo immediatamente un bel il contatto visivo cessato A tutte le unità sparpagliatevi e trovatelo Altre truffe in viaggio verso di voi Eliminate subito il bersaglio Dispaccio, richiesta ricevuta Rimporsi in arrivo Rimporsi in arrivo Rimporsi in arrivo Giorno 35 Il sergente istruttore Dusku crede davvero di essere un genio Che sciocco Il suo grasso corpo gongola mentre mi mordo a sangue le labbra per nascondere qualunque reazione La sua lungimiranza è scarsa almeno quanto la sua intelligenza Il sergente istruttore di un'altra Il sergente istruttore di un'altra Il sergente istruttore di un'altra come riesce a farlo non avessi problemi che sta facendo lassù sono più che pronto chiediamo unità a queste coordinate bersaglio in libertà ristabilire il contatto visivo immediatamente dispaccio il bersaglio è ancora in libertà trovatelo ricevuto inviamo altre truppe alla vostra posizione facile qui base altri rinforzi stanno convergendo verso la vostra posizione cosa succede lì rispondete immediatamente rispondete Grazie per la visione!